La comunità di San Cosmo Albanese diventa ormai una meta accogliente per l'estate. Non a caso le iniziative continuano con il supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Damiano Baffa. Infatti fervono i preparativi per la terza edizione del Festival dell'Accoglienza, altra manifestazione che punta sulla partecipazione e sul coinvolgimento del pubblico. Il Festival infatti va a favorire tutti quegli aspetti che soprattutto in questa epoca contemporanea devono essere centrali nella vita dell'uomo come l'accoglienza da promuovere in tutte le forme possibili per vivere in sintonia e concordia. Lo scopo infatti di questa manifestazione è presentata dall'Associazione Libera Eventi di regalare una serata di riflessione ma anche di divertimento. In primis per i più piccoli che venerdì 30 agosto dalle ore 21 saranno allietati dal clown Fragolino. In seguito si esibirà la Peppa Mariti Band, una sorta di istituzione musicale del territorio. Il gruppo nasce a Santa Sofia de Piro in provincia di Cosenza. L'idea di fondo di questa band è quella di coniugare le radici del rock con la tradizione e la cultura italo-albanese. Sono numerose le partecipazioni ad importanti festival per il gruppo che, su una base musicale tipicamente rock, valorizza le sonorità balcaniche accentuate dall'uso del violino con riferimento ai canti tradizionali per poi proseguire nel mondo della musica contemporanea e popolare. Il fine del gruppo attraverso la musica rock è di valorizzare la lingua e le culture delle minoranze italo-albanese. Insomma, una serata proprio da non perdere venerdì 30 agosto a San Cosmo albanese con il Festival dell'Accoglienza.